Buongiorno Daido, esattamente pochi giorni fa è stata rilasciata la versione 22.10 di Ubuntu denominata Kinetic Kudu e naturalmente la prima domanda che dobbiamo farci è che cos'è il Kudu? I Kudu sono due specie di antilopi divisi in Kudu minore e Kudu maggiore originarie dell'est e sud dell'Africa. Le due specie sono molto simili come potreste intuire però una è più grande dell'altra. La parola Kudu è il nome che il gruppo etnico dell'Africa sud-occidentale Khoi usa per antilope. I Kudu sono erbivori e si nutrono di erba e foglie e la loro popolazione è in declino per via soprattutto del bracconaggio. E dovete sapere inoltre che la testa del Kudu minore maschio con le sue eleganti corna a spirale è il simbolo dello zoo di St. Louis. E ora che abbiamo soddisfatto la mia curiosità di sapere che cosa sia il Kudu cosa che peraltro potevo intuire guardando il nuovo sfondo del desktop di Ubuntu 22.10 possiamo anche vedere cos'altro c'è di interessante in questa release che come dovreste sapere è una cosiddetta interim release come da .10 nella versione mentre le LTS sono le .04 quindi è una release che sarà mantenuta per soli nove mesi invece dei dieci anni delle LTS. Quindi la cosa principale e più grossa contenuta in queste release è Gnome 43 rilasciata a settembre di cui avevamo già parlato in un buongiornione di appunto un mesetto fa. Ci sono quindi i nuovi quick settings, gli improvements al file manager Nautilus. È stata aggiunta una sezione Ubuntu Desktop dove sono raggruppati settings per icone e dock poi naturalmente sono stati aggiornati tutti i software principali su Snap da Firefox a LibreOffice passando per Thunderbird. E poi c'è la nuova versione dell'app di Steam per il gaming che ha goduto di diverse attenzioni. Arriva con l'ultima versione delle librerie grafiche Mesa per cavalcare naturalmente l'onda della rinnovata popolarità del gaming su Linux grazie diciamolo a Valve e al suo Steam Deck. C'è anche una bella release dedicata per Raspberry Pi con supporto a diversi display embedded come gli Hyperpixel, gli Inky e Ink e il touchscreen display ufficiale Raspberry Pi quindi su questi piccoli schermi pur se non ideale è possibile comunque far girare Ubuntu. E inoltre per Raspberry Pi Pico ora lo stack di sviluppo MicroPython è disponibile ufficialmente nel repo. peraltro Mark Shutterworth ha puntato molto l'attenzione su IoT e Device Embedded quindi vedremo sempre maggior focus su questo settore in Ubuntu e c'è anche supporto ufficiale ai processori RISC-V. E per chiudere una delle cose più interessanti in questa release è l'adozione di Pipewire come audio server di default in luogo di Pulse Audio che resisteva fin dalla versione 9.10 quindi olè, nuovo stack audio, molti meno problemi con i device Bluetooth, tanti benefici, siamo contenti. E nella seconda parte parliamo di kernel Linux perché è uscita la prima RC del kernel 6.1 che include molte novità che vale la pena conoscere. La più mediatica, la più clamorosa è l'inclusione di un iniziale supporto core per Rust il linguaggio ormai più fashion del momento indicato come successore di C anche se questa inclusione in kernel non ha fatto gioire tutti chiedere per esempio a Drew DeVault. Comunque ci sono altre cosette interessanti quella su cui mi soffermerei un attimo è la Multigenerational LRU che sembra dare una bella botta alle performance LRU sta per Least Recently Used ed è l'algoritmo che il kernel adotta per decidere quale parte di memoria liberare per lasciarla usare ai nuovi processi quindi in pratica è una gestione della cache MGLRU è una nuova versione di questo algoritmo proposta da Google a marzo 2021 come patch per il kernel 5 ed è già in produzione su Android su Chrome OS e anche su Borg che è il cluster manager che poi ha dato i natali a Kubernetes con questo nuovo algoritmo di gestione della memoria si vede una riduzione significativa dell'uso della CPU e performance decisamente migliori quindi questa potrebbe essere la più grossa miglioria a Linux di quest'anno vi lascio un link a Foronix per approfondirla perché è molto interessante e in ultimissimo si sta parlando di rimuovere dal kernel il supporto alle CPU basate su architettura Intel 486 eh sì, nel kernel Linux c'è ancora il supporto a questa architettura rilasciata nel 1989 ed è la più vecchia supportata perché 386 è stata rimossa una decina di anni fa in 6.1 il supporto a 486 rimarrà ma si sta parlando di rimuoverlo in 6.2 Linux Torvalds ha iniziato a parlarne e pare abbastanza deciso anche se un anno fa uno sviluppatore gli commentò che aveva ancora un sistema i486 e lo stava usando in qualche modo e niente, nota nostalgica per chi di noi ha una certa esperienza e ricorda con affetto questa architettura Intel quando la legge di Moore era ancora valida e ogni nuova generazione ci dava delle emozioni e ho chiuso questa puntata dedicata a Linux e non pensiate che sia casuale perché qui nulla è casuale perché proprio di Linux parlerà l'episodio primo della nuova stagione di un podcast che tutti gli appassionati di informatica in Italia dovrebbero conoscere e seguire sto parlando di Continuous Delivery che torna domani dopo una pausa di riflessione in live perché siamo in diretta tipo una radio alle 17 su YouTube e Twitch quindi se non lo conoscete già male cercate Continuous Delivery Podcast domani 25 ottobre ore 17 si riparte se volete se riuscite a seguirci live il podcast è una cosa che facciamo in Spark Fabric lo conduco io insieme a gente che varia a seconda del tema e poi ci sono ospiti VIP di caratura mondiale e domani visto che parleremo proprio di Linux avremo tre ospiti super come Riccardo Palombo, Morro Linux e Niccolò Venerandi aka Veggero quindi direi che non la potete perdere se in live non riuscite comunque dalla mattina successiva la troverete integrale senza censure su tutte le principali piattaforme di podcast e anche in differita su YouTube quindi potrete recuperarla alla grande bene, ho finito tutto a domani ciao